Ciao a tutti e bentornati in A Plague Tale, continuiamo con il capitolo 9, capitolo particolarmente lungo devo dire Vediamo un po' Eravamo arrivati esattamente qua, il che è una cosa buona che vi abbia salvato Uuuu, allora, 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 vediamo un attimo cosa possiamo fare Siamo venuti da qua, noi si, qua si può scendere per andare Verso destinazione effettivamente, e di qua invece anche Eh sì, sono due strade alternative, parallele insomma Dobbiamo solo capire quale intraprendere Allora, lì c'è una gabbia di ratti Non sappiamo cosa possa servire, proviamo? Due guardie fatte fuori senza troppi problemi, il che è una cosa buona Adesso facciamo fuori anche la terza, direi guardate Ops Eeeh No Male, malissimo in realtà E abbiamo si spento la lampada, non... Ma i topi non lo hanno assalito purtroppo, vabbè, vediamo un attimo eh Oh porca Non pensavo tornassi indietro io E Amicia si intriga dappertutto praticamente, non so Vediamo un attimo Più due di rocce Vediamo se possiamo potenziare qualcosa per caso No Finito l'allarme eh Eh? Ma come ha fatto a vedermi? Vabbè Davvero? Sbagliato, come cazzo ha fatto a vedermi a parte gli scherzi? Vabbè, ero distantissimo Adesso, non vi preoccupate, adesso ci pensiamo noi Adesso ci pensiamo Intanto, così, ok Bene E fin qua Non ci piove Poi, poi, poi Odoris A meno che Vediamo Mi è venuta in mente un'altra cosa, ma onestamente non ne sono sicuro eh Ah 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 beh, allora Se non abbiamo dei vasi No Vieni E fin qua direi che non ci sono particolari problemi Ehi, 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 bo 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 Impaziti su topi Ok Bene Il problema è rimangano lì i topastri O ce ne vanno No, rimangano lì Sembra Vabbè, lasciamoli lì, non è un problema per il momento Anche se Anche se Barra spazzatrice dov'è che ci porta Ah Wow Interessante Però di là ci sono un sacco di robine belle No 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 E' più complicato di quanto pensassi purtroppo E beh, d'altronde D'altronde Eh, il problema è che io vorrei andare a prendere quelle cose là Vediamo se viene qui dietro No Incredibile Ho avuto, diciamo, fortuna, eh Anche se in realtà l'ho fatto per nulla, effettivamente Non Non posso vedare quello che è Ups Vediamo cosa succede Ma porca vacca E i topoloni lì? Eh vabbè ragazzi Ho avuto un sacco di culo E tu sei un perla Questa è bravura eh No non è vero Questo qua è puramente culo Allora Ehi ehi Deve venerdì là eh Non di qua Ok Eh sì Ci è voluto un po' di Fortuna eh Che cosa facciano qui facciano qui? Oh buccato Un di questi alchimisti Simmer down Sono un po' di pochettino Ma almeno che sappiano come leggere Questo non dà loro il right Di aggare come uccoli In ogni modo Uno di loro ha detto che Vitalis non faccia Noi sapevano che era arrivato Siamo dovremmeno come la mettiamo si andare avanti è facile ma lei è pieno di oggetti mi pare ma cosa fanno questi qua qua boh vediamo ci arriva lasci ma poi anche questo qua in realtà non sarebbe male alla fine non è che costa tantissimo craftarlo alcol che troviamo dappertutto quasi quasi eh dai vai e non ne parliamo più ok ecco via il dente e via il dolore qui sanguis ok ok per non spaccare oggetti comunque in realtà non sono serviti a niente ormai l'abbiamo fatto va bene così dite che si vada di qui che si debba andare di lì altrimenti qui cosa c'è eh oh porca cacchio non me ne era accorto vabbè comunque non c'è niente sapete ups cavolo vabbè niente paura dai niente paura si va di qua di là non c'è nulla ho appena visto per cui vado bene così capitolo 10 la via delle rose Roses are red Tesciuto, buono It's locked Tutto chiuso qui Allora, andiamo avanti Vabbè, possiamo craftare delle cose in realtà Dai, craftiamo Questo Ecco Vediamo Giusto per non sprecare le cose perché mi dà fastidio Bene Ah, che in realtà l'ignifer lascia il tempo che trovo Comunque va bene, dai Allora, noi siamo venuti Dalla, mi pare Da qui, da qui siamo venuti, sì Questa qua era chiusa, vero? Addirittura non si può interagire Per cui sì Più chiuso di così diciamo che non si può Non ci resta che andare di qua Oh, è enorme Bellissimo come ambiente comunque Suggestivo Come ogni altra ambientazione fa l'altro di questo gioco, eh Niente, ok Direi che non ci rimane che andare dritti Bene Aspetta, aspetta, mission Dubito che sia tutto così facile Un solo perla lì come guardia Mmh Pare strano Pare molto strano C'è nulla qua, no? Vabbè Andiamo di una classica roccia in testa Vediamo che succede Tanto adesso uccidiamo questo secondo me E saltano fuori i rati ovunque Parere mio, eh Magari mi sbaglio Però Sembra tutto Troppo tranquillo Troppo tranquillo Troppo tranquillo Troppo tranquillo Vediamo che ci sono cose da prendere Tra oggetti per craftare e cose varie Ma non mi pare in realtà Che strano Qua neanche, vero? No Molto strano, molto strano Va bene Direi che possiamo andare avanti allora Però vedete Questi punti luci qua Secondo me Hanno il loro perché Lo scopriremo presto Vediamo dove poter mettere Questo qua Io credo Qui Credo che spero Giusto perché non ho voglia Di spremere troppo le meningi Incrociamo le dita E fin qua Ok Come controlliamo di qua Dopo andiamo avanti, eh Ecco appunto Vedete Ogni tanto serve Perfetto Vediamo se riusciamo a craftare qualcosa Ipoteticamente Sì Strumenti Utilizzare Ah L'emunizione di Ignifer Distraggono invece delle vicinanze Ok Buona cosa Eh sì Invece di dover servirsi Del vaso Classico Possiamo usare L'Ignifer Mica male Mica male Direi Anzi Molto buono Effettivamente L'Ignifer L'Ignifer Ma se ti tiro un'ammazzata in testa, chi è che se ne accorge? Vediamo Guerra Guerra, l'ho già detto io, ne hai capito gli passati, sarà guerra d'ora in poi Con quella cosa lì dell'acido Come mi diverto Onestamente non so se l'alchemista fosse un cattivo Bene o male Però alla fine è morto, pura bene così Ok Ecco comunque potevano anche implementare diciamo la possibilità di spostare i corpi Perché se è un gioco stealth in cui si possono uccidere le persone E i cadavere appunto a destra hanno giustamente sospetto Avrebbero potuto farlo secondo me Poi boh Scelte loro Io direi che in questa stanza non c'è più nulla Bene così Ah guarda Ormai Ah ma i topoloni ci sono allora? Ah ma li stanno tenendo impegnati, ho capito Allora Va bene Facciamo così Eh ciao Ehi 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 Non qua però bastardi eh Non ci vanno mica no? Come? Bene Perfetto Ottimo direi E poi E speriamo che non vengono qui per carità Ho rischiato moltissimo credo Infatti Va bene Il problema adesso è Ma no in realtà non c'è nessun problema Perché adesso io muovo la luce Teoricamente dovrebbero tornarsi nel loro posto Se io faccio così eh Ecco per l'appunto Ehi 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 topoloni infamoni Ma quelli là dietro in realtà no Ma ne mettiamo Guarda che bastardi che sono No Perché i raggi vanno e vengono purtroppo Vabbè Male Vediamo Ne lasciamo un po' qua E qua Forse forse riusciamo a passarci di vicino eh O almeno lo spero vivamente Non ne sono sicuro sapete Ok dai perfetto Bene dai ho avuto un pizzico di fortuna Peccato lì per il coso A parte il fatto che sono al massimo Credo Vivo bene così dai Delle pisanguis Potevo raccogliere ma è impossibile così Non riesco a scacciare i topi Pazienza We'll Move it blacksmith That work waiting for you We're really scraping the barrel If italy stoops to catching a beggar like this Hmm A prisoner Oh well Perhaps that finally open this door Non sono stupidi no Mi spiace ma non sono stupidi Non c'è nulla da prendere mi pare per cui va bene così andiamo avanti Allora dobbiamo uscire di lì noi Giusto si Possiamo fare così Immagino E dopo Ottimo Mangiatevi anche lui per favore Bene Così va bene davvero Però attenzione che Beh ok qua va bene Ma qui non c'è nulla da prendere davvero E' strano No Bene così rimanete lì Perfetto direi Adesso facciamo così Si sa mai eh Non siamo mai troppo prudenti Con sti raton Ecco Bene Avanti tutta Speriamo di nuovo amici Crafting Crafting Non ancora Manca qua ancora Manca tantissimo A parte che mancano gli strumenti fra l'altro No Strano però che ti mettano un banco da lavoro senza strumenti Ecco appunto Lo stavo giusto per dire No Aumenta la velocità di creazione di munizioni Bah Scagliare una pietra con la fionda toglie l'elmo al bersaglio colpito Wow Ma è una bomba questo E sei di episanguis servono E anzi undici Cacchio Per craftare anche quelle cose lì serve l'episanguis Non me ne era accorto onestamente Vediamo Il SOM non può essere lanciato Non avrà più bisogno di attrezze per migliorare il suo equipaggiamento Buono cavolo Eh vabbè però qua bisogna fare tipo una run da completionist per fare tutto E io non ce la faccio E io non ce la faccio Mamma mia Cosa fanno Tirano via il sangue lui per darlo a questo qua E io non ce la faccio Cosa non ciò Ci siamo riusciti ad arendare la finestra Perché Io Sono l'Inquisizione Vitali Spennavan Hai E hai no idea Come ho ho sofferto Viene Guardare Cosa Che avrò Che avrò Viene 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 Non mi sento questo. Quale è tuo nome, Bob? Roderick. Non mi voglio che Roderick si spiega, prima che ci ha aperto questa porta. Non provi il stesso erro che hai fatto con il suo padre. Prendete. Sì, non devo perdere. Anche quando il grande inquisitore si inieta del sangue, più l'episanguis, che schifo. Non! Mamma mia! L'avevo mancato perché evidentemente non ho caricato abbastanza il colpo. Porcaccia la pupazza, ho rischiato grosso. E i sassi cominciano a scrasseggiare ultimamente. Buono. Perfetto. I sassi cominciano a scrasseggiare otto. Non sono pochissimi, ma non sono neanche tanti. Eravamo abituati a standard più alti, diciamo. Qui dietro niente, eh? Vabbè, andiamo avanti, dai. O così, o così. Ok. Ok. Ciao. Ciao. Ecco. Questo volevo fare. qua c'è. Oh, porca vacca. Ma guarda di là, bifolco. Cosa? 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 Cosa stai facendo? Vale. Ma... Bah. Ness northwesternya. I need to calm down. Ok. Novaắm. Novaắm Idea. Ok Wow Prego dai Oh cacchio Aiuto Sì, sì, sì Vai Corri, 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 corri Aiuto Ma Poverino No eh, peccato Oh Wow Another library Underneath the library Ok Guardiamoci in giro Sì Quella cosa lì Che però è bloccata Adesso ci pensiamo Dai Ottimo Non ancora No No Ah, questo era No, non mi interessava Questo Mi interessava questo In realtà Mi manca solo un episanguis Che sfiga Mi faciliterebbe di moltissimo Poi le situazioni Perché se può succedere Tutti gli umani È andato a sprecare il somnum O l'acido O cose varie Basta usare rocce Non male Non sarebbe male affatto Mi manca delle episanguis qua Mi sa di no Purtroppo Peccato 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 Ok Per il momento Niente Allora dai Vediamo un attimo Cosa fanno queste Eh Wow Ah Quindi Ok Ok Allora facciamo Giriamo questo qua Cosa posso sbloccare il carretto Dai Ecco No Eh sì Questa qua Bene Bravo Grazie Adesso me lo fa cadere in testa Magari Quel burlone Per il momento Si sembra perfetto Questa 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 Non parlavano molto, mio padre lo designò, era il maestro, ero solo l'apprentice. Monchi, di una sorta, guardando la sanguinità di un'era. Sì. Non parlavano tanto, non parlavano tanto, dei tipi loquaci. Ma. Secondo me però quella cassa la bianca va usata in qualche modo sotto uno di questi, ne lo so, boh. Perché? Ma chi... Ah. Ho capito, allora è qua che va il carrello. Il carrello va sotto questo e dopo di che risalgo da quel punto là, ho capito. Ho capito, ho capito. Eh sì. Non c'è problema. Ma no. Allora no, mi si è caduto una cavolata, sapete. Ah, a meno che non posso spostare questo, ecco. Bene. Non mi ero accorto che fosse... Che potesse spostare anche questo qua. Non c'è problema, non c'è problema. Qui va. Vediamo se lo incastona o no. Vabbè, ok, non importa. Perfetto. Torniamo su. Tira questo, dai. Perfetto, siamo sicuri che non ci sia più niente da prendere qua. Nei dintorni, no, vabbè. No, dai. Bene. Perfetto. Lascia. E qua, siamo a posto, sai. Ottimo, direi. Opa, caccia, no. Ups. Sì 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 Vero Costantemente in fuga D'altronde Però non ho capito cosa serve a fare space C'è quella sorta di schivata lì indietro Sì 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 Davvero? Perché è un inferno? Sì Sì Un inferno? Perché? Sì Buono cavolo Sì Però Aspettiamo un attimo No Da qua no però No invece si è vero di qua Ok vai Vai Wow Che bello Che bello Ah beh Gli hai rotto il osso del collo Penso anch'io sai che non si rialazzerà tanto presto Insomma dai Qui non c'è niente no Il cadavere non ha niente addosso Eh già A meno che Mmm No ma in realtà questa qua è la cosa più utile che possiamo fare Puoi dirlo Una bomba Una bomba Sì Vai Eh Non male Oh che bello Stiamo diventando potentissimi Oh Porca vacca Oh 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 Che figata Che figata Puoglio Buono Attenzione 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 Non farti mangiare eh Episanguish Ho fatto bene Ho fatto bene Ho fatto bene Che bello Che bello Come 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 mi diverto Sempre di più Sempre di più Io non amo particolarmente lo stealth ragazzi Per cui poter fare queste cose diciamo che mi diverto un sacco Un carretto per alchimisti Un carretto per alchimisti eh E qua ci tocca usare per forza Questo in teoria Questo in teoria Che però non riusciamo a crearlo Cacca Vediamo se riusciamo A trovare gli elementi giusti per crearlo qua magari in qualche modo Altrimenti Ecco No fermi fermi tutti fermi tutti Passa di la Ma porca Pupazza Ok Adesso possiamo andare al carretto degli alchimisti Andiamo Sperando che ne servisse la pena eh Perché è sempre quello il discorso È sempre quello il discorso Arrivarci è un conto Vedere se ne vale la pena è un altro Meglio di niente Questo che abbiamo usato Questo che abbiamo usato Questo e questo Vabbè dai Diciamo che Più o meno eh Ce l'abbiamo fatta Migliora Può usare la sua fiamma per lanciare il luminosa Insomma non può essere lanciato Ma in realtà non è che mi interessi più di tanto eh Capacità 20 22 materiali Permette due colpi di fila Ecco questo qua Buono cavolo Questo è buono Ma anche questo è buono in realtà È solo questo qua Che secondo me Può lanciare il luminoso E allora? No Per il momento non facciamo niente eh Quando sarà ora miglioreremo Ma non ora Al momento proprio Non mi interessa E cacchio Oh porca Non mi interessa No 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 Si Ora ci pensiamo non ti preoccupare E il problema è che Non possiamo mica dire di attaccare quello là Come mai? Sì ho capito degli helmets Però il problema è che se io lo lancio lì Vediamo un attimo Se io lo lancio lì Attraggo Quale attraggo? Vediamo Uno dei due Proviamo Eh là ci sono i topoloni purtroppo Vabbè proviamo dai Eh infatti Deve andare agli helmetti Non di qua eh Cacchio Beh ma come? Beh Il potenziamento mi è tornato utile eh Proviamo Proviamo Buono No diventate decisamente OP Overpowered eh Meglio così Sarebbe potuto fare anche in altri modi eh Però vabbè Va bene lo stesso dai Piuttosto questo qua Questo qua ha qualcosa Adosso vediamo Che non ce neanche fatto caso No Benissimo Do we really have to go in there Yes Take a deep breath Mamma mia Pasi It's already hot What a bloody mess Scusate ragazzi Scusate ragazzi Oh Pardon Vai Solo un pazzo faremo una cosa del genere Eh Mi spiace ma No Ecco punto Immaginavo Che casino hai fatto Amicia Guarda cosa hai fatto Eh vabbè Non c'era un'alternativa purtroppo Capitolo undici Undicesimo Vivo Finalmente ritrovati Ma io che tu non lo sappia It's It's the story of a little boy Who's going to get a lot better now Right I'm starving Anyone else Me Come and eat then I think we deserve it You too Coming Sare contento Lucas Mi ha portato il regalino Tre settimane dopo Però Beh Beppo di tempo Cavolo No 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 Bloody hell That's not good Hey Are you alright It's nothing Tell me This door Have you ever opened it before It's stuck It's the only place in the chateau We haven't been yet Don't you want to see what's behind it Well Hugo is asleep Bene ragazzi Noi qui Chiudiamo la puntata Grazie Alla prossima